La recente crisi ha rappresentato anche un'opportunità per imparare tutta una serie di cose che precedentemente invece erano affette da alcuni pregiudizi. È chiaro che il sistema economico impatta sul sistema sociale e sul sistema ambientale. Se si vuole essere dei leader, è chiaro che bisogna parlare anche di etica, altrimenti le persone che si cerca di guidare avranno una relazione molto meno positiva con noi. Se si parla di stakeholder management, inevitabilmente si deve parlare anche di responsabilità. Altrimenti gli stakeholder ci percepiranno in maniera molto meno accountable. Se si parla di avere una prospettiva di lungo periodo e di gestire le risorse in maniera oculata e produttiva, inevitabilmente dobbiamo parlare di sostenibilità. E quindi etica, responsabilità e sostenibilità non sono solamente tre dimensioni a cui i manager dovrebbero porre attenzione in quanto persone, ma sono anche tre strumenti che i migliori manager devono utilizzare per poter diventare dei manager ancora migliori. Nel Dipartimento di Impresa e Management e nella Lewis Business School abbiamo costruito uno spazio in cui tutti coloro che in queste due istituzioni portano avanti idee, iniziative relative a questi tre temi, etica, responsabilità e sostenibilità, possono portare la loro esperienza. Quello che abbiamo pensato di fare è costruire una serie di percorsi per permettere agli studenti di esperire la connessione fra il sistema economico e il sistema sociale e ambientale proprio nei termini che abbiamo definito precedentemente, che sono appunto dei modi attraverso cui gestire la propria impresa per ottenere leadership migliore, stakeholder management migliore, long-term perspective e resource management migliore.